Non ha nessuna intenzione di smettere di giocare, Manuel Vannuzzo, capitano dello scudetto, dopo i due anni trascorsi ad Udine rientra in Sardegna e giocherà in Serie B con l'Accademia Pirates di Sestu. Lo abbiamo incontrato alla vigilia e alla partenza per Barcellona dove giocherà con la squadra della Dynamo Legends. Ci siamo fatti questi due anni a Udine, solo che la voglia di tornare era tanta, ero rimasto d'accordo con Stefano di risentirci di anno in anno per capire se e quando potesse partire qualcosa qui. Ho deciso di continuare a giocare, prima di tutto per la voglia che ho ancora di stare in campo e anche perché facendo delle valutazioni con Laura e anche con Stefano probabilmente non è ancora il momento di appendere le scarpe al chiodo. Quindi ho trovato questa soluzione a Cagliari con la società di mio grande amico Marco Secci con cui avevamo già intrapreso le trattative l'anno scorso, solo che l'anno scorso abbiamo preferito rimanere ancora fuori e quest'anno i tempi erano quelli giusti quindi abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura. Farò parte dei vecchietti che giocheranno questa partita, penso sia un momento bello anche questo ritrovare gente che giocava anche tanti anni fa e magari confrontarci su quello che era il basket allora e quello che è adesso. Facciamo questa partita, sarà un weekend soprattutto di svago e di relax.